Tutto pronto per lo Statuto Metropolitano. Oggi a Palazzo Alvaro i 97 sindaci della provincia di Reggio Calabria discuteranno sul tanto atteso strumento, già approvato ad ottobre, composto da 22 pagine, 8 titoli e 45 articoli redatti dal professore universitario di diritto amministrativo Francesco Manganaro dell'Università di Reggio Calabria. Statuto che non sarà snaturato dall'esame dei primi cittadini, si attende qualche lieve modifica e qualche novità sostanziale, soprattutto legata alla futura area omogenea aspromontana, non gradita a molti che preferirebbero un'altra soluzione, come quella di assegnare i singoli paesi di montagna alle singole città di mare alle quali sono legati per servizi e sanità, una ripartizione che a detta di molti è più razionale in ottica di sviluppo. Quello che pare essere a tutti gli effetti lo statuto MAID-Falcomatà sembra però unire tutti, anche i sindaci di ideologia politica opposta. Gli unici ad essere in disappunto sembrerebbero i corpi intermedi del territorio, i quali lamentano uno scarso grado di coinvolgimento nella procedura di formazione dello strumento. Per tal motivo alcuni comitati hanno presentato delle proposte ed osservazioni, senza però ottenere alcun riscontro. I giochi sembrano dunque essere fatti, nonostante qualche lecita perplessità, la compattezza politica è visibile, la città metropolitana è pronta a darsi uno statuto ed i sindaci sono pronti ad un appuntamento storico.